Musica Siamo ospiti addirittura di Casa de Chiesa, questa volta ormai sta diventando un piacevolissimo appuntamento chiacchierare con te e questa volta mi fa davvero piacere poterlo fare di persona anche perché oggi è una data importante per lo sci, 11 dicembre 2019, 50 anni fa, prima vittoria in Coppa del Mondo con Gustav Töni tra l'altro ci avviamo verso la Coppa del Mondo in Val d'Isère, è successo proprio lì e oltretutto a distanza di 20 anni da un altro mostro dello sci italiano, Zeno Colò quindi ti voglio chiedere innanzitutto cosa ti viene in mente pensando di quell'inizio di Gustav Töni e grazie intanto di essere qui con noi Grazie a te Dario e a Nevitaglia di essere venuti a trovarmi, questo giorno così importante, mi tremano un po' le gambe a pensare a questa storia, alla storia dello sci, mi piace questo aggancio che hai fatto, questo link con, per usare termini, non dei tempi di Zeno Colò con Zeno Colò, il grande Zeno che ho avuto il piacere di conoscere perché faceva sempre la prepista ai nostri campionati italiani quando avevamo 8, 9, 10 anni impazzivamo, allora quindi Zeno Colò, testimone a Töni e Gros, perché per me Töni non esiste, è viceversa, senza Gros quindi Albinobio e Töni e poi Tom, queste sono le pietre migliare della storia dello sci italiano parlando di neanche grandi interpreti, di personaggi immensi eccetera allora cosa mi ricordo, intanto quando vinse quella gara, beh arrivò subito, l'eco, boom sai il passaparola, noi bambini eccetera, sognavamo questi campioni e tutto quanto e vinse questa prima gara di Coppa del Mondo, no? Gustavo Töni ma Gustavo Töni l'avevo visto un po' di mesi prima, no? Lui vinse a dicembre, l'undici però in primavera, era mi sembra marzo o fine febbraio, a Bormio, a Bormio allora non c'era Super Gigante, c'erano tre specialità, Gigante, lo Slalom e la discesa Gustavo Töni vinse i tre titoli italiani junior, fino a 19 anni, no? in Gigante, Slalom e discesa, io avevo 13 anni, già me la facevo sotto a fare questa discesa però la feci a 13 anni, la discesa della Stelio così, con questo canarino Sartorelli tutto dritto, buio, ombre, velocità, comunque se andava 100 all'ora, non è che scherzavi da bambini e con questo Gustavo Töni che sembrava, è un marziano cioè io vedevo sciare Gustavo Töni e dice, ma io cosa sono venuto a fare qua? questo lo sci, noi facciamo un altro sport, un'altra cosa accarezzava la neve, volava, quindi ho questo ricordo proprio nitido di Gustavo Töni che è rimasto impresso evidentemente nella mia mente dopo tutti questi anni è come se fossi lì a vederlo sulla Stelio sciare e vincere Gustavo ha vinto questa gara in Val d'Isere e poi da lì è iniziata la sua incredibile carriera però adesso io ti faccio una domanda addirittura? eh sì, perché adesso abbiamo parlato, tu hai citato Zeno Colò poi abbiamo citato Tomba, Töni, Gross, Tomba, no? come il liaison, eccetera, al maschile io mi sono sempre chiesto, però è stato più bravo, più grande Gustavo Töni o Alberto Tomba? adesso ti giro la domanda vabbè, chiaramente per me è più facile verrebbe da dire Tomba perché ho vissuto l'epoca Tomba, io e Töni sono del 73, me lo ricordo un po' meno ha vinto tanto poi Alberto, no? sì ha vinto di più di Töni, giusto? sì, sì, no, ha vinto il doppio ha vinto il doppio, ha vinto 50 gare, lui dice 51, poi c'è la sto parallelo, 50, Alberto? 50 e tagliamo corto, Gustavo Töni la metà? però ha vinto 4 Coppe del Mondo ha vinto meno Olimpiadi, ovviamente, perché Alberto ha vinto 3 medaglie d'oro e 2 Olimpiadi i mondiali non lo stesso, 2 medaglie d'oro però devo dire questo, che Gustavo Töni allora per me il vero sciatore io stesso sono una pippa, perché facevo lo zonomista eh sì, noi zonomisti siamo un po', sai, siamo una categoria inferiore il vero sciatore è quello che va su, sulla Strife e vince Paris, Paris per esempio ha vinto 5 volte per me, per me, io ce l'ho dentro, cioè sono sempre stato zonomista se vado a sciare faccio le curve strette e ce l'ho nel DNA, no? però la discesa è la discesa e soprattutto il tempio della discesa se vinci lì non puoi che essere un immortale quindi vale quasi come un'Olimpiade, tu dici, insomma è dura, cioè certo Tomba ha vinto tutto quello che c'era da vincere di più ancora, a metà strada, un po' di più rispetto a Stanmark questo per avere, no? le graduatorie, ieri c'era ancora un po' più avanti ma per arrivare a Stanmark, nel senso ci arriva la Schifri ma per un po' ci arriva la Schifri in a Stanmark e quindi no, mi ha colpito molto perché lui ha vinto 4 Coppe del Mondo però sai cosa ha fatto Gustavo Tueni? ovviamente lo sai, ma lo dico ai giovani Gustavo Tueni è andato da su in cima alla Strife e perse per un centesimo, no? nel 1975 non da uno qualunque mi sembra, giusto? da Franz Klammer che è stato il più grande discesista della storia e quindi sai, vabbè comunque adesso non aiziamo diciamo la concorrenza no, no, lasciamo le cose come stanno lasciamo il risponso ai posteri della storia però stiamo parlando di un campione veramente che ha fatto sognare l'Italia che ha fatto diventare insieme a Piero Gross lo sci uno sport di massa non dimentichiamolo certo poi c'è stato il boom, tomba però è arrivato dopo la valanga azzurna cioè Tueni e Gross hanno fatto quelle cose lì forse di più perché non c'erano tante altre distrazioni altri sport, altri canali televisivi c'erano milioni, milioni, milioni di persone che guardavano lo sci e quei tempi saltavano la scuola quindi era diventato veramente una pratica di massa e un fenomeno di massa lo sci insomma bellissimo fare questo salto indietro a sentirsi addosso quasi queste emozioni che hai descritto veniamo a... facciamo un passo indietro e poi per farne uno avanti ovviamente la Val di Zera adesso ne parliamo però ti volevo chiedere forse ti aspettavi qualcosa in più da Goggia o da Paris visto che c'erano tante gare veloci i risultati non sono stati eccezionali è vero che magari soprattutto Paris su quella pista non è proprio la sua preferita però cosa pensi tu? chi tra virgolette pensavi potesse fare di più? allora Paris mi ha stupito favorevolmente nelle prime due gare veloci a Lake Lewis quando ha fatto due secondi posti ma non come il terzo posto dell'altra hanno arrivato non dico per caso ma sono uscito un po' dal cilindro c'erano condizioni particolari no Paris a Lake Lewis quest'anno ha fatto due secondi posti Sacrosanti ha perso la prima gara per due centesimi da Dressen quando sinceramente pensavo vincesse ormai la seconda no diciamo che Super Gigante Maier gli ha dato quattro decimi ed è stato più bravo però ecco come ha sciato Paris lì ho detto beh accidente ma quest'anno è partito ancora meglio ma a parte il risultato un doppio podio subito però anche come modo di sciare come presenza sullo sci come soltezza nei movimenti nella gestualità ho detto qua quest'anno no poi siamo arrivati a Beaver Creek la settimana dopo battuta da resto cioè ho rivisto più o meno al solito Paris un dicesimo, tredicesimo nelle sue gare Super Gigante è in discesa e soprattutto di nuovo un contratto impacciato però mi consola il fatto che in questa sua carriera incredibile Paris lì ha colto soltanto un podio in Super Gigante l'altro anno quindi cioè non è mai andato bene lì quindi lasciamo le cose così cristallizziamoci sul ricordo di Lake Lewis che ci ha fatto vedere un grande Paris adesso andiamo in Val Gardena altra pista che insomma non è che lo faccia impazzire e poi comincia poi comincia da tutto il resto suo Goggia Goggia vabbè l'altro anno ha fatto quello che ha fatto è stata ferma e veramente mi ha stupito perché arrivare dopo tutti questi mesi di stop e fare due secondi posti a gara bisogna andare in mondiale arrivare a seconda vincere la Carabontano vabbè è una cosa incredibile la Goggia ha sciato forte devo dire a Lake Lewis però ha sbagliato tanto ha sbagliato troppo cioè perché l'andazzo c'era l'andatura c'era il ruolo di marzo sì però troppi errori e purtroppo è venuto fuori poco perché un sesto posto un dodicesimo posto per Sofia sono poca cosa però vanno presi con beneficio di inventario nel senso che vanno anche un po' analizzati ha fatto dei tratti molto 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 forte ha sciato veramente bene e poi e poi ha sbagliato e certo adesso avrà modo di rimettersi in carreggiata fine settimana ci sarà se il tempo lo permetterà questo super gigante a San Moritz e già vedremo però sono molto fiducioso per quanto riguarda la Goggia perché quando l'ho vista dove l'ho vista lasciare forte non ce l'è cioè è lì è di nuovo lei ovviamente per fortuna poi sono arrivati anche due podi al femminile importanti con Marsaglia e anche con De Lago che quindi comunque hanno in qualche modo spostato un po' l'attenzione sui due big però quello che ti voglio chiedere è parlavamo di Gustav Tony sarebbe stato impensabile ovviamente perché non esisteva neanche lo snowboard allora pensare che una snowboardista riuscisse a essere in testa alla classifica di discesa dopo la la prima tappa per le velociste è incredibile infatti l'ho detto l'ho detto l'ho detto nei miei commenti diciamo in televisione in questi giorni mi ha colpito profondamente colpito certo tutti siamo rimasti di sasso quando questa ragazza della Repubblica Ceca aveva vinto le Olimpiadi in Supergigante no non ci credeva lei ma non ci credevamo neanche noi ho detto è sbagliato il tempo no noi l'avevamo vista sciare effettivamente aveva vinto davanti alla Fight Fenninger ma si è ripetuta si è ripetuta in Coppa del Mondo io non ci credevo forse più tanto ho detto vabbè eccezionale eccezionale perché questa domina nello snowboard sull'isci sci alpino ha avuto sto episodio brava da prime 15 eccetera tutto quanto però invece no l'inclusa ha sciato veramente forte quando ha vinto ma ha sciato forte anche quando ha perso perso è arrivata a quarta cioè adesso c'è il petolare rosso insomma adesso si presenta alle prossime gare tant'è che ha deciso di non fare le gare di Cervigna snowboard di Cortina e Carezza sì non fa queste gare perché vuole dedicarsi allo sci alpino non alla Coppa del Mondo di sci alpino ma cosa devo dire è una delle atlete più incredibili della storia in senso dello sport in senso assoluto perché dove la trovi una che vince le olimpiadi in due sport sì sulla neve tutte e due ma su due sport non c'entra niente c'è lo snowboard e lo sci alpino e questa vince in Coppa del Mondo snowboard adesso si è messa a vincere in Coppa del Mondo non ho parole e poi devo dire come sciato cioè il primo giorno adesso così vi racconto se non avete visto la gara non ricordate questo particolare ma quando è arrivata a metà pista quel passaggio in diagonale dove si scollina e poi bisogna cambiare al volo al buio perché devi intuire dove come quando perché se no sei morto no lei lì ha fatto un'altra lettore che le altre non hanno neanche studiato in ricognizione o non hanno mai neanche provato nelle prove nelle sessioni di prove perché dove è passata lei e passare così alla perfezione come è riuscita a fare lei ha dell'incredibile quella è proprio classe pura poi il giorno dopo invece si è spaventata secondo me perché dice un'aula balesina non la faccio più quindi cosa ha fatto ha frenato prima di imboccare la diagonale verso a destra non le è riuscita questa manovra si è scomposta ha iniziato ha attaccato tardi la curva e ha sbagliato tutto ha sbagliato tutto insomma ha sbagliato è arrivata a quarta nella seconda discesa poi va bene il super gigante invece non ha lasciato non ha lasciato bene è arrivata mi sembra a trentesimo eccetera però eccezionale e quindi proiettiamoci anche verso questa tappa della Val di Zer si torna finalmente in Europa adesso in qualche modo quando lo sci il circo bianco arriva in Europa è un'altra cosa insomma ci saranno anche le tappe poi italiane che si avvicinano però la Val di Zer evoca comunque qualcosa di importante e sarà fondamentale per Penturo non sbagliare perché è quello che ha sbagliato di più finora è una gara molto importante e certo non più come una volta perché una volta abbiamo citato Gustavo Töni era il criterium della Premier Neige era la prima gara cioè la stagione partiva da Val di Zer a dicembre e quindi c'era un interesse pazzesco adesso arriva Val di Zer che è già cavalcato l'onda cioè Sölden fino a ottobre Levi le gare americane eccetera si arriva a motori caldi a Val di Zer però è una gara molto bella perché da qualche anno si scia sulla pista olimpica la Fast Belvard che a me piace tantissimo che sei un gigante anomalo perché è talmente ripido che hanno dovuto cambiare i parametri di tracciatura perché sennò dovevi tracciare troppo compresso per dirti quanto è continuo questo pendio diciamo dal punto di vista morfologico è proprio a sé stante lì è molto difficile Penturo ha sempre fatto molto bene a Val di Zer e si è sempre rinfrancato perché Val di Zer arriva dopo Beaver Creek dove non è mai andato bene perché diciamo che in questo decennio c'è stato Hirscher c'è stato Ligati e poi c'è stato Penturo come gigantista se il terzo gigantista del decennio sale una volta sola su quel podio vuol dire che quella pista è un po' la Paris che piasmiga come si dice da queste parti quindi non deve neanche abbattersi secondo me e non si abbatterà e secondo me domenica perché ha spostato l'invertito alle gare domenica in gigante sempre che riescono a farlo scierà in modo diverso il problema di Penturo è che ha avuto una battuta d'arresto significativa in Slalom questo è il vero problema di Penturo più che il gigante perché da come l'ho visto sciare a solde ha lasciato veramente meglio di tutti ha stravinto e quindi dico in un mese non è che disimpari a sciare è andato male sulla solita pista dove un anno arriva a 14esimo quest'anno a 17esimo pazienza il problema è lo Slalom che se ce lo ripresenta lo Slalom come l'abbiamo visto a Levi la Coppa del Mondo diventa veramente dura va bene che è andato forte in Super Gigante per converso perché ha fatto un grande Super G a Vivere è arrivato a quarto e Cristoffers non arriva a quarto in Super Gigante per adesso però insomma è tutto da vedere lotta aperta ma io gli auguro di riprendersi in Slalom soprattutto di recuperare l'assetto perché se scia seduto così con sedere schiacciato sulle cose ma da una parte non si qualifica mica per chiudere al volo Schifrin può allungare ancora di più perché è un Super G parallelo a Samoriz tanti punti possono arrivare lei che comunque senza fare grandissime cose a lei Cluiz comunque un podio l'ha fatto e ha già il doppio dei punti di vantaggio sulla più vicina sì ma il discorso Coppa del Mondo è già chiuso cioè se non si fa male la Schifrin che gliela diranno subito sta Coppa del Mondo poi si vedrà quali di specialità consegnarle a fine stagione ma la Coppa del Mondo è un affare privato cioè non c'è nessuno in grado di impensiarirla neanche lontanamente Schifrin ha sciato molto bene quando è arrivato a secondo giù a Lake Lewis l'ho vista sciare veramente molto bene poi invece il Super G domenica l'ultima gara ha sbagliato proprio la parte tecnica centrale non mi è piaciuta tanto però anche le regine sbagliano e ci sta vediamo se Morse perché sai lì non ci sono piante se non c'è buona visibilità con tutti quei dossi può essere anche una pista pericolosa bisogna vedere anche come è tracciato che neve ci sarà e quindi quanto sarà disposta a rischiare perché comunque è una stagione come tutte le altre importante è lunga siamo all'inizio non è che mai ha sprombattuto poi il parallelo sì ecco il parallelo diciamo che ha aperto a tante altre sue avversarie anche la Oldner che magari non è ancora al 100% così no la Vloba no perché è ferma perché ha questo problema di infiammazione a una tibia quindi è ferma definitivamente per un po' di tempo però la Schifri penso che va a nozze grazie mille ovviamente a Paolo De Chiesa per averci ospitato e lo ritroviamo ovviamente molto presto e buon sci a tutti grazie mille Dario saluto a tutti voi grazie mille Dario grazie mille Dario